Tutti potremmo avere bisogno di aiuto prima o poi e allora cominciamo ad aiutare chi ha bisogno di aiuto oggi. Certo, c'è già un gruppo di persone che in questo periodo di emergenza sta donando, ma tutti dobbiamo sentirci coinvolti e donare quello che possiamo. Tutti dobbiamo vincere insieme. In questi giorni di emergenza c'è chi si sta prodigando per dare a chi combatte in prima linea il coronavirus tutti gli strumenti più moderni e avanzati. E così tra gli ultimi progetti la on-loose Helios pensa in grande con l'ambizione di mettere insieme le eccellenze locali del settore sanitario e del mondo industriale. Il vero valore aggiunto però è la trasparenza. Helios vuole che si sappia, è una condizione essenziale del suo lavoro, quanti soldi vengono raccolti e soprattutto come vengono spesi. 263.411,24 euro. Questa è la cifra raccolta e appena spesa per la guerra, perché di guerra si tratta, al Covid-19. 58.000 euro sono stati spesi per due ventilatori speciali, altri 58.000 per 20 letti di terapia semi-intensiva. 30.000 euro sono stati spesi per un ecografo, 17.000 per due ventilatori per la terapia semi-intensiva, 25.000 per tre monitor da terapia semi-intensiva, 3.800 euro per altri tre monitor, 600 euro per un kit di aspiratori e per chiudere alla grande ben 70.000 euro per 5 letti per la terapia intensiva. Fate pure la somma totale e la cifra che uscirà è quella di 263.411,24 euro. Noi siamo a fianco di questa onlus per farvi capire che in questo caso si sa esattamente come vengono spesi i soldi. Non solo vi faremo sempre sapere cosa viene acquistato, ma soprattutto vi faremo vedere. Le nostre immagini saranno la prova della trasparenza, motivo in più per convincersi, contribuire e vincere insieme.